Indossa la maglia nera per l'adesione agli screening mammografici. Piacenza ha un ben poco invidiabile primato. In tutta la regione, infatti, la nostra città è quella con la percentuale più bassa di adesione agli screening. La conferma è arrivata da un convegno dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce. La percentuale è intorno al 67,6%, siamo leggermente al di sotto del 70%, che la regione considera un limite adeguato, accettabile come adesione allo screening. Dobbiamo migliorare in questo, dobbiamo aiutare le donne di Piacenza ad aderire ai programmi di screening perché lo screening è l'arma più potente che loro hanno a disposizione per la diagnosi precoce. La diagnosi precoce significa aumentare in maniera considerabile le loro possibilità di guarigione, di avere terapie le più limitate possibile. Più piccolo è il tumore che noi andiamo a diagnosticare, più la fase è precoce, più alte sono le percentuali di guarigione, le possibilità di guarigione che già sono comunque molto alte. Tutto i riflettori oggi finisce anche la prevenzione, una prevenzione che può essere fatta attraverso gli screening, ma anche attraverso una serie di altri comportamenti che appunto oggi vengono messi sotto i riflettori. La prevenzione non si esercita soltanto attraverso appunto lo screening mammografico o l'autopalpazione o comunque diciamo presidi di tipo medico, ma ogni persona ha in se stessa la possibilità diciamo nell'ambito, nel proprio ambito domestico di esercitare delle forme di prevenzione. La prevenzione si esercita anche con gli stili di vita. Grazie. Grazie.